Risotto ai funghi porcini e gamberi Il risotto ai funghi porcini e gamberi è un primo piatto dal gusto intenso e deciso, capace di conquistare i palati più esigenti. Una ricetta tradizionale, che unisce l'aroma intenso dei funghi porcini con quello delicato dei gamberi, rendendo unico e particolare ogni singolo boccone. Ingredienti 350 g di riso carnaroli 150 g di funghi porcini 8 gamberi sgusciati 1 cipolla 1 bicchiere di vino bianco Brodo vegetale QB 4 cucchiai di olio extravergine d'oliva 1 cucchiaio di prezzemolo tritato Sale QB Pepe QB Preparazione In una padella antiaderente, far appassire la cipolla tritata con l'olio extravergine d'oliva. Aggiungere i funghi porcini, tagliati a fettine, e i gamberi sgusciati, far rosolare per qualche minuto. Aggiungere il riso e farlo tostare per alcuni minuti, sfumare con il vino bianco. Aggiungere brodo vegetale bollente, poco alla volta, mescolando spesso, fino a cottura ultimata del riso. A fuoco spento, aggiungere prezzemolo tritato, sale e pepe. Servire il risotto ben caldo. Servire il risotto ben caldo. Grazie a tutti.